Non deve diventare normalità e eccezionalità, non so se vi sono spiegato. Questo campionato non è scarso, questo campionato l'abbiamo fatto diventare noi scarso, è diverso. Perché io ho visto il Vittone qua contro di noi, sembrava una squadra come oggi Trezzano, una squadra scarsa. Gli ho visti contro l'Arconatese, un'altra squadra completamente. Trezzano oggi è una partita che poteva finire tanto, ha poco. Ma il merito va a questi ragazzi che ormai giocano con naturalezza e poi una volta che sbloccano la partita diventa tutto più facile. Perché poi sono bravi a gestire la palla, non la buttiamo via, anche se oggi in primo tempo qualche volta sullo 0-0 qualche palla di troppo abbiamo perso. Però alla fine comunque loro secondo tempo sono crollati letteralmente. Un altro argomento che volevo toccare. Spesso è ripetuto anche questa stagione quanto sia difficile scegliere 11 giocatori da caricato, quanto è una rosa in cui tutti o quasi tutti meriterebbero la maglia di tolare. Personalmente mi piace sottolineare l'impatto che ha sempre a partita in corsa a Becchio, che parte spesso dalla macchina, anche se è ovviamente la tua carica di tolare, però almeno io le ultime volte che ho visto entrare è stato sempre indecisivo. Questo è una considerazione di un singolo che però penso abbraccio il discorso generale. Sì, hai fatto giusto il quadro, perfetto. Becchio è un ragazzo d'oro innanzitutto e un ottimo calciatore perché lasciarlo fuori davvero è difficile. Però ripeto, ho una rosa talmente forte che a volte devo fare delle scelte, le devo fare e le faccio. Oggi ho lasciato fuori i luoni, per cui o sono un pazzo o invece no, è così, purtroppo è così. Oggi ho ridato spazio a Zazzi che domenica non ho fatto giocare, sicuramente domenica cambierò ancora, perché ancora è Balconi, Simonetto, oggi ho voluto vedere la marca in una partita un po' più importante, di campionato, vera, non amichevole. Cioè, sto cercando di vedere anche alcune cose che possono servire per il futuro. Ecco, a proposito di futuro, per affrontare l'argomento, no, o non ho parlato con la società? No, no, io non ho parlato con nessuno per ora. Ho già espresso il desiderio di rimanere qua, lo sapete, l'ho già detto. Non dipende da me, dipende, sono le dure parti, bisogna vedere le intenzioni della società. Per lui, perché comunque è stato fuori tanto, l'ho mandato anche in tribuna parecchie volte, è anche lui un bravo ragazzo, questa squadra è fatta di bravi ragazzi, ha sofferto tanto sicuramente, oggi si è fatto a trovare pronto, ha fatto gol e sono felicissimo per lui, che tra l'altro ha fatto anche un bel gol perché ci ha creduto, si è inserito e ci ha creduto. Sicuramente deve migliorare tanti aspetti, ma è un ragazzo che l'anno scorso faceva la Beretti qua a Varese, per cui deve crescere parecchio perché ha alternato cose positive a cose negative, però ci sta.